Mi trovo nel comune di Capaccio Pestum, precisamente a Capaccio Scalo, presso lo stadio Mario Vecchio per incontrare i responsabili dell'atletico Poseidon e per trarre un bilancio di questa annata 2018 e 2019 delle varie attività svolte da questa fantastica associazione. Un bilancio positivo, abbiamo gareggiato sia con campionati di FICC, con campionati di OPES e abbiamo fatto dei buoni piazzamenti anche se l'obiettivo principale di questa associazione è quello del divertimento, quello di trasmettere ai ragazzini i sani principi dello sport poi i campioni se nascono nascono da soli, quindi un bilancio molto positivo perché abbiamo fatto anche delle esperienze oltre la regione Campania, siamo stati ospiti del Frosinone quest'anno, poi abbiamo un tecnico molto preparato come Mauro Infante che con lui collabora anche con società professionistiche, quindi ha portato quest'anno veramente diciamo un buon professionalità nella nostra associazione. Per l'obiettivo principale sono sempre i bambini, a parte tenere tecnici che hanno conseguito il patentino abbiamo persone come Tiziana e Matteo che sono collaboratori che la prima cosa principale per me è che hanno la passione perché oggi credo in tutti i campi, non solo nel calcio, se non c'è la passione è difficile fare le cose. Benissimo, allora quindi bilancio positivo per tutte le attività della stagione 2018 e 2019 quindi si chiude in bellezza l'8 giugno, 9 giugno, no 10 giugno, per la festa ricordiamo dove? 10 giugno siamo al Agri Pestum sulla Stadale 18, facciamo la festa di fine anno come è stata sempre fatta sono invitati ragazzini con tutti i ceditori e questo mi soddisfa molto perché riusciamo sempre a finire una grande festa a tutti se